In chiudanza gli uomini, Dio, qualche provvedere siete costruiti a voi, edificio spirituale per un sacerdote e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella scrittura. Ecco, io congo in Sio una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Carissimi, cominciamo così la nostra processione, invitati dall'Apostolo Pietro a seguire Cristo, appoggiare la nostra vita su Cristo, che riconosciamo pietra, roccia, fondamento della nostra esistenza. Camminare per le strade della città significa per noi non solo testimoniare, annunciare, significa molto di più credere che il fondamento della nostra vita è il Signore. Perciò possiamo camminare insieme, andando incontro gli uni agli altri, con verità, nella libertà e con spirito aperto ai bisogni dei fratelli. Nel nome del Signore camminiamo insieme. O di Stabia, nobile banto, figlio invito e protettore, per accogli un dolce canto, Qual è un popolo sacro a sé, con rispetto e con amore, del tuo trono in alza al pie. Con rispetto e con amore, del tuo trono in alza al pie, sulla luce fossi al secco, sulla sede al disperato. Il rincontro a sé, con amore, del tuo trono in alza alzio, Grazie. Grazie. Grazie.